Utensili da cucina, attrezzature da cucina, ciotole di miscelazione, ciotole di servizio, pentole, cucina pa-roll. Forbici da cucina, contenitori per alimenti, guanti da forno, misure di tazze, le pinzette, gli strofinacci, la pellicola alimentare. La pellicola di plastica, la carta alluminio, l'argenteria, gli elettrodomestici uso domestico. I piatti, le coperti, resistente al forno.